Mercoledì 30 ottobre alle ore 19 presso i saloni della chiesa San Luca di Caltanissetta si svolgerà la proclamazione ufficiale delle cariche capitanali della Real Maestranza per la settimana santa 2025, con la presenza delle nuove cariche capitanali, gli organi direttivi dell'associazione Real Maestranza e le autorità civili ed ecclesiastiche. A comunicarlo è stato il presidente dell'associazione Real Maestranza di Caltanissetta, Luigi Fiocco.